Buongiorno e benvenuti! Questo breve video offrirà a voi conducenti una panoramica delle nuove e delle migliorate funzioni di guida del nuovo CF e del nuovo XF e potrete constatare voi stessi quanto il già eccellente veicolo DAF si presenti in una veste ancora più allettante. Tutte queste inedite funzioni migliorate che andremo a esaminare da vicino incrementano il comfort del conducente, la sicurezza e il risparmio di combustibile, consentendo tra l'altro un ulteriore risparmio del 7% sul carburante. Questa guida e le informazioni che riceverete renderanno più facile e produttiva la vostra giornata. Accediamo alla cabina. Osservando la disposizione del cruscotto potete notare alcuni piacevoli cambiamenti quali nuovi comandi dell'illuminazione interna della cabina, nuovo climatizzatore cabina, nuova e migliorata modalità eco, sistemi di controllo del conducente aggiornati e il nuovo quadro strumenti DAF. Partiamo quindi dal nuovo controllo dell'illuminazione interna che dispone di quattro modalità. Ruotare il selettore circolare per selezionare la luminosità desiderata, guida notturna, relax, flood e off. Utilizzando i tasti più e il meno potrete regolare il livello di illuminazione per la modalità guida notturna e relax consentendovi di sentirvi come a casa ma lontani da casa. Ora l'illuminazione ambiente della cabina è regolata da un'unica elegante unità di controllo per garantire sicurezza e comfort da posizione seduta. È inoltre possibile passare dalla modalità luce notturna relax e luci off comodamente dalla vostra cuccietta. Proseguendo troviamo il nuovo sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento della cabina che integra anche il riscaldatore supplementare opzionale. Viene fornito con una funzione airco intelligente che raffredda quanto basta, piuttosto che il più possibile. La funzione automatica qui presente consente inoltre di controllare con la semplice pressione di un pulsante, temperatura, intensità della ventola, distribuzione dell'aria e aria condizionata. La nuova posizione della regolazione della luminosità del quadro strumenti e la modalità pannello nero che elimina qualsiasi riflesso inutile nei vetri e negli specchi esterni sono comodamente situate in questo punto. L'interruttore per la rigenerazione del DPF, filtro antiparticolato diesel, è stato aggiornato. Il nuovo sistema consente inoltre di aumentare gli intervalli del processo di pulizia di rigenerazione in aggiunta a un minor consumo di carburante. Spostandoci sulla destra del piantone dello sterzo, abbiamo la modalità eco migliorata. Questo nuovo sistema non presenta alcuna differenza nel funzionamento e nell'attivazione, ma è stato migliorato dal punto di vista funzionale. Le caratteristiche principali della modalità eco migliorata sono il pulsante della modalità eco non ha alcun effetto sulla coppia del motore, benché l'impatto maggiore sul conducente sia il cambiamento del comportamento del cambio quando viene premuto il pulsante della modalità eco. Anche il comportamento del controllo della velocità di crociera è stato adattato specificatamente per adeguarsi perfettamente alla modalità eco prescelta. Andiamo ora a vedere come funziona la modalità eco, per darvi un'idea di come sfruttare al meglio questo sistema nell'arco della giornata. Voi, in veste di conducenti professionisti, potete decidere di attivare o disattivare la modalità eco in base alle condizioni correnti. Il video mostra la differenza nella guida in accelerazione sia con la modalità eco attivata, come potete vedere sulla sinistra, sia con la modalità eco disattivata, come potete vedere qui sulla destra. Quindi, come potete notare, la guida con la modalità eco disinserita non ha praticamente alcun effetto sull'accelerazione, ma di sicuro ha un effetto negativo sul consumo del carburante. La disattivazione della modalità eco consente al conducente di ottenere una maggiore trazione durante la guida, per esempio in salita. Si notino i giri di motore e la scalata di marcia. Ora il veicolo sta percorrendo la stessa salita in modalità eco, l'impostazione più efficiente dal punto di vista dei consumi. Potete chiaramente notare un numero di giri inferiore e una scalata di marcia minima, possibile grazie alla disponibilità della piena coppia motore in modalità eco con conseguente consumo inferiore di carburante. Passando ai comandi sul volante sulla destra, troviamo i nuovi comandi del controllo della velocità. La funzione crociera, che comprende il controllo della velocità di crociera, il controllo di crociera adattivo, il controllo di crociera predittivo e il controllo della velocità in discesa. Qui il comando del menu del controllo della velocità, dove potete impostare il controllo di crociera adattivo, il controllo della velocità in discesa e il controllo di crociera predittivo prima della guida, consentendo un uso più semplice più sicuro. E qui la funzione Limitatore, che comprende il limitatore della velocità variabile combinato con il controllo della velocità in discesa. Per regolare o preimpostare le opzioni preferite di velocità della funzione crociera, premere l'interruttore menu e accedere a la regolazione o lo spegnimento della distanza del controllo di crociera adattivo. Per garantire la massima sicurezza, questa funzione si resetta alla distanza predefinita ogni volta che viene spento il camion, qualora il veicolo venga preso in consegna da un diverso conducente. Ciò è in linea con la nostra filosofia. La chiave inserita garantisce che il veicolo sia nella impostazione più sicura e più efficiente dal punto di vista dei consumi. Regolazione o spegnimento del controllo della velocità in discesa. Ricordatevi che tra questa impostazione e la velocità di crociera impostata, il veicolo massimizzerà l'uso dell'eco roll. Abbiamo infine l'impostazione migliorata del controllo di crociera predittivo, che consente di passare dal massimo risparmio alle massime prestazioni. I cinque segni di spunta qui di seguito vi forniscono un feedback diretto sul valore di risparmio delle impostazioni prescelte. L'impostazione della velocità di crociera conduce alle impostazioni predefinite della velocità. Una nuova caratteristica è che ora il controllo della velocità di crociera resta attivo quando si azionano i freni, purché la velocità rimanga al di sopra di quella impostata. Al reset o alla ripresa della crociera, anche l'accelerazione sarà graduale ed economica. E un'altra nuova caratteristica degna di nota è che l'impostazione della crociera viene memorizzata a chiave disinserita. Una nuova caratteristica introdotta con il limitatore della velocità variabile consiste nel fatto che le situazioni eco roll si verificano durante la guida in accelerazione quando il limitatore è attivato. E per prevenire la sovra velocità, il controllo della velocità in discesa si inserisce automaticamente quando la velocità supera quella impostata di 2 km orari. Troviamo infine il moderno quadro strumenti di nuova concezione con nuovi quadranti e nuova grafica, inclusa un'indicazione di guida in modalità silenziosa, se disponete di questa opzione. Sul fondo del tachimetro sono integrate tutte le impostazioni della velocità di crociera. E potrete inoltre notare che la striscia verde nel contagiri è stata estesa, poiché il nuovo motore MX, a parità di velocità di crociera, ha un regime motore molto inferiore. Eccoci infine al display principale che integra nuove funzioni. Ci riferiamo principalmente alle informazioni particolareggiate offerte dal tachigrafo, che fornisce una visione immediata e sicura del tempo di guida e di riposo rimanente. Le nuove serie CF e XF fissano lo standard più recente nell'efficienza dei trasporti e costituiscono il parametro di riferimento per il comfort del conducente. Il veicolo eccellente è stato migliorato ulteriormente.